Who's the master in game? It's video game Darling, what's the coolest name? It's video game Ciao a tutti da Svideo Oggi giochiamo a questo nuovo gioco Che si chiama Abzu E niente, adesso ci immergeremo In questa nuova avventura Mi immergo insieme a voi In mezzo a questi pesci Acqua è quello che verrà fuori Interessante qua E vediamo dove ci stiamo In che universo Ci stiamo andando a Immergere In un universo sottomarino E dove siamo Dove siamo Attenzione Cosa succede? Noi siamo Questo protagonista Vediamo un po' Vediamo Vediamo un po' Posso muovermi? No, ancora no Ancora non posso muovermi ragazzi Vediamo Sembra una scimmia Con una muta Una muta da subacqua Allora, il problema è per immengerti Ok E così ci immergiamo Tieni premuto per notare Ok Ah Sì Vsad Per girarsi Volteggiare E premere quello Per aumentare la velocità Ok 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 Ma pensa un po' Molto interessante Allora Vediamo un po' Qua Vediamo Vediamo Volteggiare In mezzo Ai pesi Molto rilassante Ragazzi Facciamo Qualcosa Bella Stimicione Ma che bella Andiamo Andiamo A volteggiare Nei pesci Vabbè Andiamo Più in là Cioè E' morto E' morto Andiamo In quel crepaccio Ma il pesce E' là Cioè Ci spanto Contro Già Cosa succede Non mica niente Ciao Pesciolonzo Pesciolonzo Tieni premuto per cavalcare No No Dai Vieni ti cavalco Yeah Spera Ah Lo teniamo premuto Vai Dove mi porti Pesciolone Dove mi porti Wow Che spantacolo Gira Gira Fai la capovolta Bellissimo Questo mondo Stupendo Premi per interagire Ma che spettacolo 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 e ti vista la tartaruga che era uscita per darli in mezzo per far darli in mezzo andiamo qua mi vado a incastrare è magico questo gioco, che atmosfera ragazzi posso solo rovinare con la mia voce mi mandata la tartaruga quando mi mandata la mia voce da un'altra e un'altra ma mi mandata la mia voce mi mandata la mia voce andiamo di lì c'è una luce marina qua ah c'è un altro di quelli dove si può interagire si salta fuori qua cosa sono quelle? comunque là c'è aperto va un po' lento come frame ci sono delle stelle giù si possono prendere ma cos'è questo? ma cos'è questo? che forte e mi segue prendiamo questa stella qua si può andare a girare che bello questa giornata immagino che atmosfera io voglio rimanere a testa in giù per un po' qua no dai mi devo ancora un po' abituare a queste comandi dai direi di andare su la sonata io direi di andare su 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 un su 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 andiamo a vedere cos'altro possiamo fare facciamo un giro vediamo un tipo di spaletti bene dove andiamo? dove andiamo? c'è un altro tipo di spaletti e così ne abbiamo presi due qua si può andare attraverso attenzione grazie 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 mille wow l'avete visto? eh sì che l'avete visto cavolo dove andate? ti voglio cavalcare scuolozzo siamo un po' cos'è? cosa c'è lì in basso? una monite ok dai sai su ruota ruota andiamo questi ricci sembra che è la nebbia la nebbia gli articoli più avvicinando il sale e sotto il maestrale vuole bianchegge ma vabbè andiamo di lì qua sto andando qua sto andando qua sto andando qua sto andando c'è qualcosa là sotto? c'è qualcosa là sotto e io ci devo andare ma cos'è? cos'è sta roba? ma dai cos'è? e possiamo andarci di sempre lì e eh ci devo andare qui sopra ci vado all'interno così attenzione sono arrivato da un'altra parte già lo so no? scussate dove sono? andiamo a raggiungere quella moneta no dove va? si fermi lei